Bene ragazzi, bentornati ancora una volta qui online per un nuovo video e oggi, come promesso anche su Instagram, siamo sì in una top giochi, ma è una top molto molto diversa o comunque speciale, perché oggi vi voglio parlare di quelli che sono, secondo me, quindi una top molto personale, i migliori giochi del mese, ma non solo. Voglio proprio parlarvi di quelli che sono i titoli giochi che dovreste, secondo me, assolutamente avere e provare sul vostro dispositivo, che sia Android o che sia iOS, quindi una top, vi ripeto, molto personale, ci sono titoli che forse già conoscete, altri che invece ho proprio lasciato così decantare perché sapevo di realizzare poi questo video. Ma voglio dirvi una cosa molto importante, o meglio che l'ultima top di quest'anno voglio farla leggermente diversa o comunque voglio inserire tutti voi nel video e quindi qui sotto nei commenti spaccate proprio il box dei commenti, consigliandomi 150 miliardi di giochi in modo che io li provo e vi inserisco poi, vabbè, sapete un po' come funziona, no? Vi inserisco, ci facciamo un video quindi insieme, creiamo un video insieme, quindi mi raccomando, spaccate questo video e condividetelo, fate tutto quello che dovete fare, ma adesso, scusatemi un attimino per questa piccola chiacchierata iniziale, ma comunque doverosa, e quindi nulla, commentate con i vostri giochi preferiti, ma provate anche questi qui che secondo me sono assolutamente top. Ma iniziamo e partiamo subito con il primo gioco di questa top, o meglio Battle Bay, un gioco un po' diverso dal solito, dove insieme ai vostri compagni di squadra online dovete riuscire a vincere le sfide abbattendo tutti gli nemici. I comandi sono fatti veramente molto bene ed è semplice prendere un attimino così, se così possiamo dire, la mano ed ha anche una bella grafica. In generale, vincendo, o comunque farmando, possiamo poi sbloccare diverse abilità e inoltre, naturalmente, migliorare la vostra potenza di fuoco in modo da essere sempre un attimino così più imbattibili online contro gli avversari. In assoluto è un titolo veramente super interessante, quindi dadici un'occhiata perché può darvi veramente tante tante soddisfazioni, poi è leggero e disponibile per tutti, quindi provatelo. Proprio come il secondo gioco, secondo me, che forse vi ricorda un attimino un titolo, nello specifico vi potrebbe ricordare Arch Hero, e nello specifico parliamo di Super Clone. In questo caso parliamo di un gioco che, sì, vi ripeto, può ricordare quel titolo, ma che graficamente è molto, secondo me, più interessante, un attimino più futuristico, soprattutto perché ha uno schermo AMOLED sul proprio dispositivo, fidatevi, è veramente una goduria. Ma comunque, in linea generale, non è da sottovalutare proprio perché sembra quel gioco, anche perché ha delle, diciamo, tematiche, ha delle opzioni di gioco molto interessanti. In generale, però, sappiate che avete questo bel personaggio con delle pistole e dovete riuscire a battere tutti i vari livelli e tutti i vari nemici. Andando avanti poi nei livelli, potete un attimino upgradeare la vostra potenza di fuoco, migliorare, appunto, anche le vostre armi, eccetera, eccetera. Quindi, abbastanza semplice per quanto riguarda il gioco, comunque per quanto riguarda la tipologia, ma comunque, fidatevi, è da provare. Forse non mi sono spiegato bene, ma vabbè, mi attengo al testo e andiamo subito verso il terzo gioco di questa top. E andando proprio verso il terzo gioco di questa top, andiamo verso un titolo che vi ho mostrato già in altri video. Come detto, in apertura ci sono titoli che magari già avete visto, ma che comunque sono migliorati e che ho lasciato, appunto, decantare. Nello specifico vi parlo di Bullet League, un platform sparatutto online veramente spettacolare, ragazzi. Ci gioco ancora ed è, secondo me, una bomba. Ovviamente il nome, o comunque anche la spiegazione iniziale, dice praticamente tutto. Siamo in un gioco online, avete il vostro personaggio che potete modificare, comunque potete avere diverse skin, le sbloccate poi andando avanti e avanti nel gioco. Potete upgradeare anche le vostre armi, potete fare un attimino le solite cose, ma in generale abbiamo controller, o comunque tasti per la navigazione interna del gameplay molto molto semplici, e l'obiettivo è quello di abbattere tutti i nemici e arrivare primo, e quindi abbattere tutti e rimanere da soli. Siamo, diciamo, in un tutto contro tutti, e quindi top. Top, provatelo ragazzi, già ve l'ho fatto vedere, quindi veramente top, basta, ho detto 100 volte. Andando avanti andiamo verso il quarto gioco di questa top, che è Bull King. È un titolo molto semplice che generalmente ormai, come ben saprete, preferisco definirli come giochi a record, che vi porta, con una grafica in questo caso a cubetti, in un campo da basket, per riuscire poi a centrare quante più volte possibile il canestro. Titolo sicuramente semplice da spiegare, perché alla fine anche tramite i video state vedendo che appunto è proprio semplice come gameplay, ma fidatevi vi può perdere veramente tante ore di gioco, perché essendo semplice è proprio così rilassante, e quindi veramente ci sta molto molto bene. Proprio come il quinto, e qui andiamo già in una di quelle chicche che ho scoperto da poco, ma che comunque secondo me va scaricato e va provato sul vostro dispositivo. E nello specifico vi parlo di Non Stop 2, un action RPG veramente rilassante, proprio come il precedente. Sì, in questo caso è proprio, diciamo, l'aggettivo perfetto per descrivere al meglio questo gioco, perché appunto è principalmente un gioco in cui il personaggio corre, voi dovete scegliere le mosse e upgradeare poi la potenza del vostro personaggio, con l'armatura, l'arma che puoi sbloccare andando avanti, nel gioco con dei semplici tap. Forse dalla chiacchierata, o comunque dalla spiegazione, è leggermente più complicato da capire, ma dai video state un attimino afferrando meglio il concetto. La grafica è veramente molto interessante, è un po' cartunesca, ma comunque ci sta, e anche per quanto riguarda musiche di sottofondo, in generale proprio le ambientazioni, devo dire che sono veramente ottime, quindi provatelo ragazzi, perché potrebbe darvi tante tante soddisfazioni, soprattutto sul divano, quando potete un attimino così rilassarvi. Il sesto gioco di questa top invece è Spike City, un gioco d'azione barra avventura, dove dovrete riuscire ad arrivare il più in alto possibile, con il vostro personaggio, riuscendo a superare i vari ostacoli con dei semplicissimi swipe. Anche in questo caso, detto così, è un attimino complicato, ma affidatevi, è veramente ottimo come gioco per smartphone, e dalle clip sicuramente state riuscendo a capire qualcosina in più. La grafica è veramente molto interessante, è un pochettino così pixelosa, come piace anche dire a me, minecraftiana, so che si chiama in altri modi, però ragazzi, passatemi il termine. E nulla, molto semplice, è un gioco d'avventura, fatto a livelli, dovete riuscire ad arrivare quanto più in alto possibile, provatelo, anche perché è super leggero anche in questo caso, quindi potete provarlo veramente su qualsiasi dispositivo. Il settimo gioco di questa top invece è un classico platform, che nelle mie top, o comunque in una mia top personale, non potrebbe mai mancare, perché sono abbastanza amante dei titoli del genere, e quindi in questo caso devo assolutamente parlarvi di Rayman. Certo, ci sono altri platform, anche molto più interessanti, ma in questo caso ho preferito inserire Rayman, perché comunque è l'unico, almeno in base a quelle che sono state le mie ricerche, i miei test, gratuito, comunque completamente gratuito, dove potete appunto andare avanti nella storia e stare belli che tranquilli. Poi ce ne sono altri come Odmar, eccetera, eccetera, e magari trovate anche un video dedicato, perché ho proprio dedicato un video ai platform, quindi magari dateci un'occhiata, però tra tutti questo Rayman è assolutamente da avere sul vostro dispositivo. Molto bello, anche graficamente, ed è ovviamente disponibile sia per Android che per iOS. Se l'avete provato fatemi sapere, magari anche voi qui sotto nei commenti, cosa ne pensate se avete altri platform da consigliare. Beh, fatelo sempre qui sotto, in modo che nel video finale di quest'anno spacchiamo veramente di tutto. L'ottavo gioco di questa top invece è una piccola chicca, che ho scoperto anche in questo caso da poco, o meglio Tower, dovrebbe chiamarsi così, poi correggetemi se sbaglio qui sotto nei commenti. Beh, in questo caso parliamo di un casual game, che vede al centro di tutto una principessa che deve riuscire a scappare dal drago, spaccando tutto ciò che c'è sotto, abbattendo i nemici e naturalmente superando una serie di missioni che saranno poi proposte ad inizio partita. Il titolo è veramente molto leggero, e anche in questo caso molto rilassante, e magari potrebbe essere un'ottima soluzione, anche per il nostro amato hashtag confessionale. Mi raccomando, non dimentichiamocelo mai, perché per quanto riguarda i giochi da smartphone, è forse una delle cose più importanti in assoluto. Il nono gioco invece di questo video è Diamond Quest, un gioco che mi porta veramente indietro nel tempo, e che secondo me dovreste assolutamente provare. Parliamo di un gioco d'avventura, molto semplice da giocare inizialmente, ma che poi ovviamente come poi tutti i giochi del genere, quindi giochi d'avventura dove man mano cambiano i livelli, eccetera, eccetera, si fa sempre un pochettino più interessante, e anche più complicato da superare, ma comunque è assolutamente top, ragazzi, va assolutamente provato, molto semplice per quanto riguarda la grafica, il titolo è realizzato comunque in generale molto bene, e nulla, ragazzi, c'è poco da dire, provatelo, trovate il link in descrizione, come un po' di tutti gli altri titoli. E arrivando invece alla decima e all'undicesima posizione, li inseriscono attivano insieme, perché sì, sono diversi, ma comunque parliamo di titoli che abbiamo approfondito, anche con video dedicati, proprio perché in assoluto sono secondo me i migliori ancora oggi per i vostri dispositivi, cioè quei giochi in generale che si avvicinano già a quella visione di console portatile. In generale vi sto parlando di Call of Duty e di Genshin Impact, due titoli che io ormai ho praticamente sempre sui miei dispositivi, li utilizzo anche per testare poi i vari dispositivi, e che praticamente ho installato e non disinstallerò mai più sul mio iPad, perché sull'iPad è veramente di una goduria pazzesca. Se avete un iPad provateli, perché ragazzi ci mettete anche il joystick e veramente volate, e diventa una console. Ovviamente Call of Duty lo conoscerete molto molto bene, non sto qui neanche a parlarci troppo su, mentre Genshin Impact magari potrebbe essere un attimino più di nicchia sotto certi punti di vista, ma allo stesso tempo so bene che non solo ho realizzato un video io, ma ci sono 150 miliardi di video online e inoltre è super popolare anche su Twitch ultimamente. Quindi veramente ragazzi è una chicca, sono abbastanza pesanti come titoli, ma fidatevi che vanno assolutamente provati. Arrivati a questo punto però, io ragazzi direi che per oggi potrebbe anche bastare, diciamo che ho fatto del mio meglio per andare bello diretto, veloce, per essere anche un attimino così semplice, fruibile, si dice, non lo so, per me è nulla. Vi ringrazio per il supporto, come sempre ovviamente, come sempre e quindi nulla, ci vediamo e basta. Vado a registrare altri video che vedrete poi. E fidatevi, sto preparando delle chicche che voi proprio non avete idea. E passate anche sul secondo canale perché anche lì stanno scelendo dei video molto interessanti, quindi mi raccomando, poi c'è anche Upgrade e poi c'è anche Instagram, quindi che vi ho sentito di fanno. Voi andate in descrizione che trovate di tutto e di più. Ciao e grazie. Poso l'ue, poso, lo posso.